WIKI NAUTI Lo tengo già in canna Nenni non riesco a... No 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 Oh si si un bacino dai dai No niente bacino Fai così cambia canale Si giusto Minimo languorino quello posta la foto della lasagna fumante Delle salamelle che ha fatto una grigliata magari il bastardo E non ti ha invitato l'infame Bastardo figlio di puttana Tua madre suoi pompini e cavalla Zoccola Cogliona di merda Poi stava dritta dritta su facebook Poi c'è il demoralizzatore di massa Faccio un selfie va Ma facciamocelo insieme non facciamo mai niente insieme Dai però cazzo faccio già... Il degenero Quello che neanche Elisabetta Parodi Chi è Elisabetta Parodi? Non uso che stai chiamano Si chiama Elisabetta Parodi Nooo C'è Cristina e Benedetta Parodi Quindi si vede addirittura Si vede... Addirittura che non c'è? Si vede... Com'era secondo voi? Pessima rifatela Ok Ok sta registrando adesso Ok Dietro com'è? Tu stai attento dietro che non cambi... Allora taggatevi addosso Allora facciamo così Invece di cagarmi... Eh... No dobbiamo litigare Dobbiamo litigare di brutto Mi rende triste anche a te Un momento ti guarda te la faccia triste Ma poi non farla cioè Che cazzo te ne frega Si faccio finta Guarda... Guarda... Si guarda... C'è soltanto un uomo con la parrucca Una taggata... Madonna che taggata che ho fatto dopo la mangiata di ieri Nove cosine di Champs-Élysées E' appena passato una ragazza correndo e ci ha fatto... Vabbè... Ragazzi il video finisce qua Se voi conoscete qualcuno di questi utenti Facebook Condividetegli il video sulla sua bacheca Così magari capisce che... Non c'è trippa per gatti O per cani Ciao